Io non credo che tutto rischi di rimanere sulla carta perché in questo ci saremo aiutati molto dalla digitalizzazione. Anzi, io credo che l'Irpinia farà da modello e le altre province della regione Campania che purtroppo non è che siano meglio messe a livello di trasporti, logistica, infrastrutture. Proprio perché non sono del territorio potrò decidere liberamente e non sono sicuramente legata alla politica e neanche alla politica del territorio, dovrei essere stata scelta proprio per la mia competenza e professionalità. Senta, ai sindaci qual è il messaggio che si sente di dare rispetto anche a un tema, i campanilismi, le divisioni tra i sindaci che non hanno mai consentito di fare sistema? Questa è una bella domanda, vuol dire che ci sederemo a tavola con i sindaci, i sindaci saranno impegnati perché dovremmo costituire i distretti oltre agli ambiti e quindi dovranno per forza fare sistema.